In Italia quasi tutti hanno un conto corrente, ma oggi c'è chi ha Controcorrente. Controcorrente non è un conto come gli altri. Chi ce l'ha può scontare il canone fino a zero, risparmia e ha i mezzi di pagamento più evoluti. Ma il bello è che ti ripaga della scelta. Come? Con gli interessi garantiti. E tu da che parte stai? Passa a Controcorrente, conviene! Aprilo su controcorrente.it o in IBL Banca. Grazie a tutti.